Sarà il primo evento in città a richiedere l'utilizzo del Green Pass per la partecipazione, con controlli a campione svolti dalle forze dell'ordine dislocate in tutto il litorale per verificare tra i partecipanti il possesso della certificazione verde e la possibilità offerta dal Comune per i non vaccinati di effettuare gratuitamente un tampone, che con esito negativo garantisce il pass per le 48 ore successive. Questi sono solo alcuni degli elementi che quest'anno costituiscono l'organizzazione di candele sotto le stelle, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo pesarese in programma per martedì 10 agosto. Il format, che vedrà pesaresi e turisti vestiti di bianco radunarsi dalle 19 alle 2 lungo gli stabilimenti balneari per una cena illuminata dalle candele fornite dalla Proloco di Candelara, diventa dunque apripista delle nuove misure di sicurezza richieste con l'introduzione del certificato verde obbligatorio anche per le manifestazioni. Una misura necessaria, ha sottolineato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, per un evento che ogni anno coinvolge tra le 30.000 e le 40.000 persone. Invitiamo tutti a partecipare vestendosi di bianco, i protagonisti sono le persone e sono le candele grazie allo straordinario lavoro dei volontari della Proloco di Candelara. È davvero una serata magica che vogliamo vivere nella massima sicurezza possibile. Tra qualche giorno entrerà in vigore il Green Pass, il Green Pass è obbligatorio per gli eventi, per le sagre, per le manifestazioni. Questa è una manifestazione particolare perché è distribuita su tutto il litorale, però non possiamo rischiare perché sappiamo comunque che non sono esclusi assembramenti di persone, magari in alcuni stabilimenti particolarmente vivaci piuttosto che altri. Quindi in tutta l'area del lungomare, per Pesaro e nelle zone di competenza di Gabiccia e Gradara, dalle 7 di sera alle 2 di notte verrà introdotto il Green Pass. Non chiediamo sforzi gravosi agli esercenti o ai bagnini, i controlli verranno fatti a campioni in accordo con la prefettura. Del resto non c'è alternativa, ci sono eventi circoscrivibili dove il controllo è facile farlo all'ingresso. Poi ci sono eventi come questo che sono distribuiti dove il controllo all'ingresso è impossibile farlo perché non c'è un ingresso e un'uscita. E quindi per questi eventi l'indirizzo che ci siamo dati con il prefetto è quello di fare controlli a campione esattamente come si faceva quando c'era l'obbligo della mascherina anche all'aperto piuttosto quando c'erano altre regole molto più stringenti come durante il lockdown. Come già anticipato, lunedì 9 e martedì 10 agosto dalle 9 alle 13 al campus davanti al liceo scientifico l'amministrazione allestirà delle postazioni per effettuare gratuitamente i tamponi ai pesaresi interessati e non ancora vaccinati. Sarà possibile eseguire i test rapidi anche nelle giornate del 13 e 14 agosto negli stessi orari. In occasione della manifestazione è inoltre previsto il potenziamento delle linee di navette gratuite già attive sul territorio, mentre Piazzale della Libertà ospiterà un'installazione 3D di street art tra le più grandi in Italia. L'edizione 2021 di Candele sotto le stelle si estenderà per il secondo anno consecutivo a Gabice Mare e per la prima volta anche a Gradara. Il nostro evento si concentrerà sotto spiaggia, sotto monte, un evento circoscritto con numero ristretto di prenotati quindi sarà accessibile solo attraverso prenotazione e attraverso l'esibizione del Green Pass. Sarà coordinato anche la nostra associazione giovanile le prenotazioni e vedrà protagoniste sia il cibo quindi la tradizione del mare con una rustida che offriremo agli ospiti che si prenoteranno accompagnati dalla musica dei Mosaic of Orchestra che è una band i cui autori sono autori e compositori dei nomadi quindi all'insegna del canto autorato italiano e nella massima tranquillità. Il costo della serata è 13 euro, quindi molto politico. Gradara declinerà questo evento a mondo su, chiaramente termorando i temi principali che sono l'illuminazione e il lume di candela e la trasferenza suggestiva. Tutta la luce nel centro storico, la pubblica e l'illuminazione sarà spenta e le vie saranno illuminate da una serie di candele in terracotta quindi che renderanno onore e omaggio a un luogo comunque già suggestivo e romantico di suo. I ristoranti faranno dei menu speciali a lume di candela quindi anche all'interno delle strutture dei ristoranti sarà possibile assaporare questa atmosfera molto suggestiva e romanticamente. Come comune con Proloco e con Gadarinova organizzeremo dei picnic sotto alle stelle con un cestino fatto apposta nel quale sarà possibile trovare tutte le eccellenze del territorio un telo fatto apposta e con due o tre aree verdi all'interno del borgo sarà possibile estendersi sul tappeto erboso e ammirare le strade cadenti.